Per il quarto concerto della nostra taggione vi offriamo un panino, in più un panino cieco. Per il ripieno abbiamo due compositori, una della Bohemia e l'altra della Moravia, e due pezzi che sono fratelli della serenata per Acchi di Dvozjak. La serenata di Josef Suc, allievo di Dvozjak, contiene la musica più bella mai scritta per gli archi. Musica serena, elegante e anche vivace, tutta dalla penna di un diciotenne. Questo è un miracolo da non pedere. Nelle sue opere, Leos Janáček presenta emozioni forti e violente, festeggia anche la rivelazione della natura. Tutto questo si trova in piccoli suggerimenti nella sua suite per Strings. Per il nostro panino abbiamo il pane più buono del mondo, perché apriamo e chiudiamo il concerto con la musica di Wolfgang Amadeus Mozart. Il suo divertimento, Kirchel 136, in re maggiore, musica piena di energia e anche di consolazione. Mozart lui stesso. E per finire il concerto, un pezzo scritto da Mozart nell'anno della morte dei suoi genitori. musica che conferma la nostra universalità attraverso tutte le generazioni, sia le piccole che le grandi. La grande, una, 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 una. music. So, Thursday, 24th of January, 9 o'clock in the evening, at the Teatro Politeamo. Teatro Politeamo, giovedì sera il 24 alle nove di sera. Buon appetito!